Musica Devo dire che quando vediamo le immagini dei centri di accoglienza del mondo Poi veniamo qui, siamo veramente profondamente colpiti da quello che vediamo che fate voi, i vostri collaboratori Grazie E si sente che l'uomo è veramente al centro, qui c'è tantissimo rispetto e tanto affetto E io credo anche che l'Europa deve fare così, soprattutto per le persone che vengono da una regione che non conosce tutto questo Grazie mille per il suo lavoro così importante e per molti lavori, tanta forza Aplica 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 Grazie per la visione!